Per qualche donna conta solo il bel faccino dell'uomo. Attenzione, in questo video di oggi io non voglio prendermela contro le donne, non sono un misogino, anche se qualcuno mi ha etichettato come tale, non ce l'ho contro il mondo femminile, ma ho un'opinione abbastanza radicata del mondo femminile, non tutto chiaramente, secondo cui la maggior parte, secondo me, guarda solo il bel faccino di un uomo. Quando parlo di bel faccino parlo quindi alludo all'estetica, quindi alla bella faccia che un uomo può avere senza andare a considerare minimamente, quindi senza andare a tenere conto di quello che è l'uomo per quanto riguarda il suo lato etico. Aperta parentesi tonda, morale, chiusa parentesi tonda. Etica e morale sono la stessa cosa, tengo a specificarlo, anche se uno youtuber che mi ha dedicato una live di recente ha sottolineato come le parole sono diverse l'una dall'altra. Sì, forse c'è una letteralmente minuscola, impercettibile differenza, l'etica è più profonda, la morale è un po' meno profonda, tutto qua. Però entrambe sono morale. E reputo che la donna, non tutte, ripeto, ma la stragrande maggioranza, guardano solo il bel faccino di un uomo. Il bel faccino quindi sto ad alludere all'estetica, al viso, al volto, comunque al lato, chiamiamolo esteticamente piacevole, di quello che è l'uomo di oggi. L'uomo di oggi è dominato da un'estetica che deve corrispondere ad avere i capelli lunghi, capelli impumatati, camicia addosso, mocassino, leggermente il pantalone corto, deve essere preferibilmente un jeans, meglio una bella giacca, e ecco che l'uomo va bene, zigomi rigorosamente alti, occhi giusti, uno sguardo fiero, bello, e soprattutto una, chiamiamola, estetica che deve andare a corrispondere al requisito fondamentale di bellezza. Per i canoni estetici, oggi come oggi, viene valutato quello che una persona fa, o meglio è, e basta. Se un uomo, per esempio, come Raul Bova, andasse in giro per le strade, riceverebbe occhi da parte di molte donne, di molte ragazze. Se invece io, tu, che non sei, immagino, un Raul Bova, o un Riccardo Scamarcio, o un Gabriel Garco, girassimo per le strade di Roma, di Napoli, di Genova, di Milano, delle grandi città italiane, a noi nessuna ci guarderebbe, a noi nessuna ci degnerebbe di uno sguardo, ed è inutile negarlo, ed è inutile occultare tale realtà dei fatti. Occultarla significherebbe dire, non voglio vedere quella che è la realtà, non voglio osservarla, non voglio guardarla, non voglio vederla. E invece è bene, e ripeto, è bene, tenerla in considerazione, non occultarla, e soprattutto guardarla con occhi critici e realistici. Questo significa che, spesso e volentieri, a mio modesto parere, la gente preferisce non guardare, no? preferisce, come si suole dire, ficcare, mettere, la testa sotto la sabbia, come fanno, in genere, gli struzzi, questi bellissimi animali, dal collo lungo, e dalla testa minuscola. eppure noi potremmo, diciamo così, guardare in faccia la realtà, se solo ci spingessimo, a guardarla con occhi concreti, senza andare a creare false situazioni, senza andare a creare una, chiamiamola scorsa, una corazza di mera falsità, e senza andare a creare quella facciata di omertà, che purtroppo, dal mio punto di vista, oggi come oggi, è piuttosto radicata negli esseri umani. Attenzione, non tutti, chiaramente, sono sincero, ma la maggior parte, dal mio punto di vista, va a non voler guardare, a non voler tenere conto, a non voler osservare concretamente, e non in maniera astratta, quella che è la verità dei fatti. È più bello non guardarla, è più semplice, noi umani pensiamo che tanto tutto ci è dovuto, che tanto tutto andrà bene, invece no, non andrà niente bene, invece no, dobbiamo spingerci a renderci conto, veramente, quello che è la vita. basta, non è più nemmeno, non voglio ancora continuare a trattare l'argomento a morte, perché è veramente un argomento palloso, mi sono rotto le scatole, ormai ne sto parlando sempre, però, dal punto di vista estetico, sappiate che la donna di oggi, è una donna selettiva, emancipata, una donna che va a guardare chi ha davanti. C'è un famoso detto, ed è, l'occhio vuole la sua parte, per carità, io non sono ipocrita, anche io vado a guardare l'estetica di una donna, la prima cosa che guarda è l'estetica, chiaramente, però mi vado a soffermare anche su quello che è il carattere, perché molto spesso la donna bella, la ragazza bella, è vuota come una zucca, non ha sale in zucca, non ha un cervello, ragiona come un'oca, come un'oca giuliva. È bello questo secondo voi? Non è bello. Preferisco magari una donna normale, normilinea, così la definisco, piuttosto che un'ochetta di merda, che dal punto di vista estetico, magari mi può soddisfare, ma mi ci vado solo a divertire, però poi dal punto di vista etico non mi dà la possibilità di confrontarmi. Il confronto è fondamentale, perché è così fondamentale il confronto? Perché il confronto è la costruzione di un'idea, di un parere, di un'opinione, il miglioramento di un essere umano, la maturazione. Se una persona non si confronta con un'altra persona, rimane ferma, immutata, nelle sue condizioni mentali, nelle sue rappresentazioni mentali, e invece è bene, è fondamentale guardare la realtà, confrontarsi, parlare con gli altri, aprirsi, e non tenersi tutto dentro. Confrontarsi significa io parlo con te, tu parli con me, quello che non so io, magari me lo puoi dire tu, ci apriamo, ci mettiamo in condizione di arricchirci, e il gioco è fatto, senza dover stare nella condizione di rimanere ognuno per le proprie condizioni, ognuno per le proprie opinioni. Le opinioni fanno bene avercere, fanno altrettanto meglio quando queste opinioni vengono a incontrarsi, o anche a scontrarsi. Il confronto è a volte sinonimo di scontro, come lo scontro a volte è sinonimo di incontro, di confronto. Tutto qua. Dal vostro Leandro è tutto, iscrivetevi, commentate, e un saluto e al prossimo video.